Il doppiaggio, un mestiere antico e affascinante. E chi ce l'ho? Basta parlare con la quella? Sì, ma in italiano? No, non importa l'italiano, basta avere una bella voce. Oh, io ho un cliente che fa il doppiaggio, poi mi chiedo se lo posso fare pure io. Ragazzi, donna le mani, è vero. Per me il doppiaggio non serve a niente, però in inglese non è un massimo. Mi hanno detto che ho la voce sexy, non so fare un profilo. Da oggi tutti possono doppiare con Doppiatù, il primo corso di doppiaggio in fascicoli settimanali. E in edicola il primo numero a 3,99 euro con il jack della cuffia in omaggio. E con la seconda uscita in regalo, la pratica assistente. Doppiatù, edizioni del Prado.